Buonasera a tutti, noi siamo i Bob e siamo una band di Modena. Suoniamo insieme da tanti anni come tribute band di Litfiba, ma da un anno e mezzo a questa parte abbiamo iniziato a fare pezzi nostri. E quindi da qui è nato il progetto Bob. Quindi stasera presentate? Presentiamo due brani nostri, il primo si intitola Diane, il secondo si chiama Judah. Quindi tutto composto, fatto da voi, da te o dal gruppo? Abbiamo composto tutti insieme, questi due testi qua li ho scritti io, ma la musica l'abbiamo scritta tutti insieme. Perfetto, ci presenti il gruppo? Allora, alle tastiere abbiamo Michele Dell'Orco, alla batteria Matteo Cariani, al basso Marco Quartieri, alla chitarra Cristian Sgarzi e alla voce Malavasi Mattia. Questa è Diane. Oh Diane, perché lo fai? E resto qui ad aspettare le cose che i sensi mi trasmettono tra le reazioni di un'altra storia. Voglio respirare in questo mondo finto, in questa stanza di razionalità. Nessuna appartenenza, nessuna confidenza, questa non è la via. Oh Diane, ma dove sei? E resto qui ad ascoltare i tuoi perché. Immagini senza follia, è come vivere la tua gloria. Oh Diane. Oh Diane. Oh Diane. Non voglio impazzire, fuggire dalla gente, senza guardare in faccia alla realtà. Non riesco più a guardarti, non posso giudicarti, è questa la via. Ti ballo nei miei sogni, ti sento respirare, in questo mondo impossibile. Io cerco di fuggire, senza lasciare ombre, ma questa e la via. Oh Diane. Grazie. 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 Oh, oh, oh Giura, che non sai giura E adesso giura, che non sai giura Oh, 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 oh Giura, che non sai giura E adesso giura Che non sai giura Grazie